ciao a tutti e bentornati qui con questa bella mappa 16x registriamo un po di percorsi nel frattempo abbiamo ancora le missioni attive qua per fare la missione ci vuoi tantissimo perché i campi sono grandissimi e con i mezzi che abbiamo noi a disposizione adesso sono un po piccolini addio piccolini metri trebbia abbiamo quella più una del più grande che c'è solo che ne abbiamo una forse forse ce ne vorrebbe una seconda però peccato che in offerta non c'è niente perché potremmo prendere qualcosa in offerta ma non c'è chissà che cosa che significa che questo gli erpici dischi usano per coltivare un coltivatore per adesso non ben serve vabbè però mentre lui qua piano piano si fa la sua il suo lavoro direi che noi possiamo approfittare per registrare un qualche percorso dov'è che ho trovato qui una strada guardato un po che non aveva ancora collegato vediamo dove siamo sono qui allora qui non si vede niente ma dobbiamo arrivare a sta stazione dei treni cosa c'è che a wire rail qua un qualcosa di fianco proveremo da allora non so se facciamo andate al ritorno si ce la potremmo pure fare allora normalmente vediamo un po se le impostazioni van bene 470 sono i metri che utilizzano normalmente per la larghezza dei percorsi guardate un po ci possiamo anche stare ci possiamo un po qua direi che va bene mai poi dopo facciamo il collegamento ma per adesso andiamo a fare l'andata e ritorno bello dritto per dritto colleghiamo anche la stazione dei treni dove è messo anche perché così questa cosa abbiamo anche la possibilità di collegare i campi qua ma adesso devo vedere qui allora lì devo vedere dove va però per adesso facciamo uno di questi io direi che qua faccio un un'andata singola possiamo girare anche intorno mettiamo il caso che non vogliamo vogliamo solo girare invertire aspetta che non vedo niente allora per adesso lo faccio dritto dopo quando so come fa passare i percorsi magari colleghiamo tanto con la cosa che è su questi sulle mappe 16x tutto dura una vita in più sia le missioni che il lavoro un po di calma perché altrimenti qua non andiamo non andiamo avanti allora mentre aspettiamo che le missioni vada avanti almeno facciamo questo ma qui potevo stare anche un pelo più interno sono stato troppo esterno modificheremo dopo che lo modifichiamo dopo registriamo anche per cosino qui qua siamo quasi centrale possiamo utilizzare anche questo aspetta però un po' più a sinistra ehi meglio ok sono stato un po' troppo largo qua secondo me è meglio che mi stringo un po' di più vediamo ok oh perché sto course play va bene allora io cioè se lo tiro via poi non mi funziona non ho capito perché in sulle altre mappe non mi dà fastidio e su questa mappa qua mi deve dar fastidio ok 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 apri mini gui cursor mouse on-off se lo tiro via poi non funziona più proviamo così ok almeno fin quando non fin quando non scopro come perché me lo fa su questa mappa e sulle altre no lo lascio così dopo magari lo cambio allora cancella questo allora come si chiama qua oh kawaii e questo è kawaii rail e questo è noleggiatreno va bene ok kawaii carica e qua è carica e qua è carica ok ok allora questo e questo e questo facciamo i secondari andiamo a dare un'occhiata qui alle nostre operatori ah quello è già in partenza per il prossimo giro solo che ci mette 5 minuti ad andare e 5 minuti a tornare no dobbiamo inventarci qualcosa di diverso allora finisco di registrare lì il percorso e dopo mettiamo in funzione il nostro camion meglio così almeno no uh sei in più allora tiriamo via questo tiriamo via questo tiriamo via questo e mettiamo questo qua facciamo secondario anche questo così se per caso dovessi girare il percorso che prende quello lì ok allora potremmo fare anche l'andata e ritorno qua spostiamoci un po' più in qua ah si aspetta che dobbiamo stare sui 470 però eh no ok ok registra adesso dopo colleghiamo anche l'uscita non so qua come si è messo con i campi secondo me oh oh c'è un'uscita anche qua potremmo fare solo un'andata e ritorno entrata lì no no la spazziamo andata e ritorno dai che manco per fargli fare dei giri da chilometri ok visto che ci siamo registriamo anche oh freno registriamo anche l'andata subito così colleghiamo anche questo incrocio dammi un altro punto mi sa che qui qualche prestito prossimo giri dobbiamo farcelo perché altrimenti allora ehm campo 33 siamo all'80% ma mica male il 32 siamo ancora al 30 è un po' un po' così così allora questo cancelliamo questo mettiamo qua qua questo mettiamo qua stessa cosa la facciamo qua e qua questo qua e questo qua e questo qua mi serve un punto qua e questo qua ehi ok allora questo entra qui troppo 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 ormai abbiamo preso più o meno le misure per come devono venire i percorsi non è che ci mettiamo tantissimo questo non mi piace ok peccato che non abbiamo a disposizione della roba bella da altrimenti ci prestiamo un po' di roba da facciamo così adesso ci facciamo facciamo un piccolo prestito non da miliardi e poi sono sempre più convinto di fare un percorso senso unico qua non lo so non lo so non lo so allora aspetta un attimo voglio vedere una cosa io vorrei fare tutte queste missioni di fertilizzazione che sono tantissime e ci portano ci porta la bellezza di un po' di soldi oltre al fatto che oltre al fatto che ci possiamo collegare anche i campi ma da un lato me ne frego mi interessano i soldi per dire questo da 56 no? allora lo chiediamo con questo o con la bank manager ma ce l'ho qui oh non mi sono messo il coso della banca non mi sono messo il coso della banca che significa che per adesso mi ripresto così ok vado qua voglio 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 questo allora questo è quello del gioco carica 12.000 contro i 9.000 che è normalmente però questo è troppo grande a me piace di più questa voglio vedere una cosa aspetta io ho questo carica il fertilizzante questo cos'è non è fertilizzante questo? sì allora noleggia questo anche se lì se io ci lo metto me ne frego per adesso non noleggia ok 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 ehm 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 ok ok adesso vi facciamo il pieno e andiamo ad accettare un altro un'altra missione vediamo un po' qua vicino sempre ehm ehm allora roba campi piccoli più o meno ehm quattordici quattordici dovrebbe essere qua vicino accetta contratto ok ehm speriamo che non è in culo al mondo quattordici sedici quattordici qua ce l'abbiamo proprio cioè alle spalle proprio della cosa perfetto con questo facciamo molto molto prima dai quello quello me lo conservo per la calce ma per il fertilizzante non va bene poi se vogliamo fare le missioni abbiamo bisogno di di roba grossa ragazzi grosso facciamo il pieno ok e adesso ci vengo con il con la botte vediamo se andiamo bene eh ehi va a vedere vediamo se c'è un tubo aspetta che forse doveva andare di qua e qua campo fortin eccolo qua campo fortin hm perchè il centrale non me lo prende per il cover per course play? perchè? salva ok ok mannaggia mannaggia facciamolo qua apri due impossibile generare va bene bene allora facciamolo al contrario mi rompi sai che mi rompi un po'? anche se non si mi rompi un po' non mi rompi un po' non mi rompi un po' Questa è a posto Allora Normalmente io sulla North Freesige Marsh Questo problema non ce l'ho Perché È attivato il tasto destro Del mouse Però quando sono attivi I percorsi di autodrive Non funziona il problema Cioè non c'è sta cosa qua Non ho capito perché Questo su questa mappa qua me lo deve dare Ok Allora questo è finito Andiamo a parcheggiarlo Così ce lo togliamo via dal Marones Io andrei a vendere anche Quella roba lì Che non mi serve Quella palla gommata lì Telescopica Cosa mi serve Per adesso mi serve a niente Tenerla lì ferma Che non mi serve a niente Quando mi servono i soldi Direi che un po' di roba Va venduta Va cambiata Cioè questa va venduta Questo va cambiato Il tagliaerba va cambiato Raccogliballe va tagliato Seminatrice va cambiata Un po' di roba va cambiata Allora vediamo se è questo Prendiamo questo Oh anche questo Piccolino piccolino Quanto capacità 100.000 litri Sì è proprio Roba piccola 100.000 litri M'ho dato proprio A rompere 100.000 Mamma mia Troppi ragazzi Troppi 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 Ora gli carico Sto fertilizzante liquido E lui segue No è perché probabilmente Non ho parlato io Ma Allora campo 33 Ha finito Sarebbe Sarebbe Questo Ok Il percorso non mi serve Devo andare a attivare un paio di mod Perché questa Questa è finita da Miss Gay Un'altra fertilizzante Campo 4 Qua vicino Campo 13 Qua vicino Campo 4 Campo 4 Qual è Ce l'ho proprio qua Allora lasciamolo qua per adesso Non hai accesso a questo campo Cioè fammi capire perché Non ho accettato la missione Come poco fa Ah sì perché Che struttura di cavoli Allora qual era Il 14 Eh perché Non mi ricordo mai Perché più di 3 Non le posso accettare Più di 3 Non le posso accettare Fertilizza campo 14 Accetta Dal primo punto Please Adesso ci va lui Solo fa lui Niente a questo punto Sai cosa facciamo Che Questo qua Me lo tengo per Dare della calce Questo fertilizzante qua Lo metteremo Sicuramente In una seminatrice Così Lo utilizziamo in questo modo Perché Troppo piccolo E Ci mette troppo tempo I campi sono troppo grandi Abbiamo bisogno di Di roba potenziata Qui Ci vuol del doping Doping Viagra Con la roba lì Bisogna Roba grossa Abbiamo bisogno di roba grossa Ecco qua Potenza Quella Quella lì 40 Quella è 46 metri Ma questo va bene Dai con i suoi 36 Beh comunque ci metterà 15 minuti Anche lei Qui bisogna registrare il percorso Qua finiamo di caricare Questa roba qua Allora io finisco di caricare qui Vi do appuntamento al prossimo video Sempre qui Sulla Island Live Questo nome quasi quasi lo cambio Non mi piace tanto Però è questa la mappa qua ragazzi Siamo qui al revenditore Class Che ne ho avuto ogni tanto Vende anche qualche New Holland Ma comunque John Deere Un po' Multimarket Ok Fondamentalmente al prossimo video Sempre qui Su quella bellissima mappa 16x Al prossimo video Ciao 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 Ciao